La mia dermatologa mi ha detto di voler fare un menage a droa e mi ha anche chiesto se conoscevo qualcuno. Stavo pensando a te. A me? Vorrei provare il suo uomo da sola. Sharon Stone, John Turturro, Woody Allen, Gigolo per caso. Ti serve uno giovane, navigato, uno che domina nella coppia. Sì, è così che la penso io. Ma io non sono un bell'uomo. Ti ho forse detto che sei bello per me, tu hai un'altra qualità, tu hai un qualche... un certo sex appeal. Grazie. Mick Jagger è un bell'uomo, forse quello apre la bocca per cantare ed è un orrore. Ma è sexy, Mick è sexy, tu quello sei. Dimmi una cosa, tu senza vestiti sei bello, vero? Come lo sai? È che molti sono meglio visti nudi. Tu sembri uno di questi. Che c'entro io con Mick Jagger? Lui è ricco e famoso. Sì, ma tu sei sexy. Chi l'ha detto? Ah, bello, dico io. Tu sei malato, vada uno bravo. Ci vado da uno bravo ogni settimana. A te serve... Don Ford o George Clooney. No, non è così, sei tu. Sei il massimo in un certo quel modo. Sei tu, sei tu, ecco, che non hai paura di sporcarti. Tu ti sporchi le mani, lavori con le piante, con la terra. Tu sei uno che tocca fili e pulisce tubi, estura, fogne, gabinette. Cioè tu fai dei lavori disgustosi, non hai paura. Tu sei disgustoso in senso positivo, ecco. Grazie, fa sempre piacere sentirlo.